Centinaia di uomini mobilitate dalla Polizia Municipale di Salerno per cercare di ridurre al minimo i disagi per l'1 e il 2 novembre. Per la celebrazione dei difunti è scattato il solito piano dell'amministrazione comunale del capoluogo ad iniziare dai controlli sui parcheggiatori abusivi nell'area del cimitero e sui venditori irregolari di fiori. Decine le pattuglie in borghese che terranno sotto controllo gli accessi al Camposanto per cercare di cogliere sul fatto eventuali trasgressori. Come di consueto inoltre il Comune ha messo appunto un piano traffico con una particolare circolazione stradale che dovrebbe cercare di limitare le code. Dalle 8 a 30 minuti dopo la chiusura dei cancelli del cimitero, intorno alle 18.30, senso unico di circolazione in direzione Mari Monti su via Irno verso Fratte, anche se stavolta il trapto interessato inizia dall'abbivio per Brignano. Senso inverso poi Monti Mare su via Calata San Vito e via Crispi verso piazza Naddeo. In sostanza anche quest'anno è stato riproposto un anello viario a senso unico, discorso simile su via Brignano e via Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Istituiti anche diversi divieti di sosta lungo le strade principali di accesso al cimitero. Chiusura inoltre per due giorni, domani e dopodomani per la rampa di uscita dello svincolo di via Irno della tangenziale di Salerno. Abbiamo contratto il senso unico proprio alla discesa di Brignano in modo da limitare i fastidi anche ai residenti. Abbiamo chiesto al CSTP di potenziare le corse di collegamento per il cimitero, la corsa che fa il circuito tra Brignano e Casamanzo. Che d'occorre fare ai cittadini anche per cercare di limitare i disagi? Ove possibile, anche in considerazione del tempo, cercare di fermare le auto magari un po' più lontano, anche al parcheggio che sta dove è il parco Pinocchio e raggiungere poi a piedi il cimitero. Intanto l'amministrazione comunale si sta preparando anche per l'accensione delle luci d'artista prevista per sabato alle 17.30 iniziando da piazza Caduti di Brescia a Pastena. In via di definizione il piano traffico e mobilità con due navette per consentire agli automobilisti di utilizzare i parcheggi dello Stadio Orecchi e di Via Rigea per poi raggiungere il centro di Salerno. Stiamo pianificando le navette che dovrebbero partire a fine mese di novembre e contemporaneamente siamo in trattativa con Trenitalia per un potenziamento dei treni di ritorno da Salerno verso la direzione Napoli e ovviamente treni locali con partenze ulteriori dopo le 22.20 che invece è l'attuale ultimo treno che riporta le persone a Napoli.